Gli agenti della Polizia di Stato della sezione volanti del commissariato di Battipaglia hanno tratto in arresto un 25enne battipagliese, pluripregiudicato, resosi responsabili dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni, minacce, ingiuri e resistenza pubblico ufficiale. Gli agenti giunti nella zona di via Spineta bloccavano ed identificavano i responsabili del violento gesto, non senza difficoltà per le resistenze dell'uomo. Dei successivi accertamenti identificavano anche la donna ex convivente fatto oggetto delle violenze dell'uomo ed il figlio di due di appena 14 mesi, i quali venivano soccorsi presso l'ospedale Santa Maria della Speranza per lievi contusioni. L'uomo è stato tratto in arresto per i reati compiuti e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.